Allora, riprendiamo da questo punto in cui ci eravamo interrotti prima di vedere questi metodi di ordinamento. Ordinamento significa partire da una lista esistente e rimescolare gli elementi che sono al suo interno per far sì che, dopo questo rimescolamento, gli elementi siano in ordine crescente oppure decrescente di valore. Il metodo che si usa per ordinare una lista è il metodo sort che applicato a una lista, in questo caso una lista di numeri, modifica il contenuto della lista, riordinando gli elementi in modo che alla fine saranno in ordine crescente, quindi 1, 4, 9, 16 è l'ordine crescente, dal più piccolo al più grande. Il metodo sort è un tipo di metodo che modifica il contenuto della lista, quindi la lista di partenza la perdo, viene riorganizzata e trasformata nella lista ordinata. Esiste anche qua un metodo analogo che però non modifica la lista di partenza ma mi restituisce una nuova lista in cui gli elementi siano ordinati e questa è una funzione che si chiama sorted. Non lo dico come regola generale, però il metodo si applica a una lista e quindi modifica la lista, la funzione invece riceve una lista come parametro e restituisce una lista come risultato, non è una regola proprio generale però, bisogna conoscere singoli metodi, singole funzioni per capire cosa fanno. Quindi il metodo punto sort applicato in una lista o la funzione sorted a cui passo come argomento una lista fanno lo stesso lavoro, cioè mettono in ordine gli elementi, in ordine di valore crescente gli elementi, elementi che ovviamente dovranno essere confrontabili, quindi ho tutti numeri o tutte stringhe. la differenza è che appunto la prima sort modifica la lista di partenza, la seconda invece non la modifica e ne crea una nuova. Quindi questa è l'unica piccola differenza. Normalmente per suonatura la funzione sort modifica gli elementi in ordine crescente, se invece volessi ordinarli in ordine decrescente, quindi dal più grande al più piccolo, posso passare un parametro, un secondo parametro opzionale che nel caso di sorte è l'unico parametro, nel caso della funzione sorted sarà il secondo, reverse uguale true. Quindi ordinalo al contrario. Il parametro reverse normalmente è falso e quindi ordina al diritto, se invece passo il parametro reverse uguale true, mi darà i numeri dal più grande al più piccolo o le stringhe dalla z alla a, in questo senso, c'è in ordine alfabetico inverso. Questo funziona su dati, come dicevo, confrontabili. Quindi ho tutti i numeri e tutte stringhe. se avete una lista mista vi dà errore, perché a un certo punto lui cercherà di fare i confronti tra i vari elementi e se ci sono elementi di tipi diversi non sa che cosa fare e quindi darà errore quando cercate di chiamare il metodo. Poi lo vediamo con un esercitetto che faremo. Anche sulle liste, ma qui non ci spendo neanche un secondo, funzionano anche il prezzo di slicing, quindi così come indicizzo un singolo elemento posso indicizzare una sequenza di elementi e in questo caso starò estraendo una sottolista, una nuova lista. Ecco, una nuova lista. Lasciamo perdere l'extend, avevamo questa lista di pari e di dispari, se io calcolo i numeri centrali che sono una parte di dispari, dal terzo al quinto, due elementi, mi crea una nuova lista in cui vengono copiati i valori della lista di partenza. Quindi l'operatore di slicing crea una nuova lista, così come la parentesi quadra, così come il list, così come il più, l'operatore di somma, di concatenazione, sono tutti modi in cui il risultato, tutte operazioni in cui il risultato è comunque sempre una nuova lista. E questo ci dà anche un trucco per creare una coppia di una lista esistente. Noi sappiamo che, abbiamo detto che la coppia di pari, pari bis, lo posso ottenere come list di pari, va bene. Ma un altro modo per ottenere lo stesso risultato, pari ter, il terzo modo, sarebbe quello di prendere la lista pari, così no perché mi fa un alias. Ma estrarre una slice, una fetta di questa lista che contenga tutti gli elementi. Un po' da malati di mente, aperta quadra, due punti, chiusa quadra. Ovviamente prima dei due punti è sottinteso zero, il primo elemento. Secondo, è come se scrivesse ovviamente zero come primo elemento e l'n di pari come secondo elemento. Cioè, fammi una slice, una fetta, una porzione, che contiene tutti gli elementi della stringa. Qui ciò che otterrò ovviamente è una stringa uguale a quella di partenza, ma poiché la ottengo attraverso una slicing, è una stringa diversa. Quindi un altro modo che trovate per fare una copia. attenzione che due punti serve perché se mettete solamente le parentesi quadre, senza niente in mezzo, vi da errore. Non è un errore di sintassi, non vuol dire nulla, scritto così. Quindi faccio uno slice che per default mi prende dal primo elemento fino all'ultimo. a volte lo si vede scritto nel codice, è assolutamente equivalente a scrivere list di pari, cioè crea comunque una copia. Oppure possiamo fare tutte le cose che volevamo, cioè se noi volevamo i numeri in ordine inverso possiamo semplicemente pari scrivere una slice che va al contrario. In questo caso mi crea una nuova lista in cui 8, 6, 4, 2 ho gli stessi elementi che c'erano in pari ma partendo dal fondo rispetto al primo. Le stesse cose che facevamo già sulle liste le possiamo fare, scusate, che facevamo già sulle stringhe, poi dopo oggi per fortuna non smetto di confondermi, le possiamo anche fare sulle liste, con una novità in più, che poiché le liste sono modificabili posso anche usare l'operatore di slicing a sinistra dell'uguale, come destinazione di un'operazione di assegnazione. Allora proviamo a capire come funzionano, togliamo questi giochini qua che abbiamo fatto e mettiamo i numeri tutti uguale pari più dispari e abbiamo questa bella lista con tutti questi numeri. Io so che posso sostituire un numero se voglio, quindi io posso sostituire tutti di 2 con 99. Vabbè, prima c'era un 4, ci ho messo un 99. Ho sostituito una posizione con un numero, ma, e questo lo scopriamo adesso, posso anche sostituire una slice, che ne so, dalla 5 alla 6, supponiamo questo 3 e questo 5, non mi piacciono, li voglio cambiare, quindi dalla posizione 5 alla 7, 7 esclusa, quindi 5 e 6, le sostituirò con che cosa? Con una lista di 33, 44. Quindi ho sostituito di botto due elementi con altri due. Ho preso una lista e l'ho sostituita a una porzione di una lista esistente. Vabbè, dici sei pigro, potevi scrivere tutti di 5 uguale a 33 e tutti di 6 uguale a 44. Sì, sono pigro, ma non finisce qui. Cosa succede se io, sulla sinistra vedete qua, ho chiaramente una slice di due elementi, il 5 e il 6. Cosa succede se sulla destra assegno una lista che ha più di due elementi? Si espande, si fa spazio. Quindi dove c'erano due elementi tolgo quei due e ne metto degli altri allargandomi, facendomi spazio che serve, eventualmente anche il numero maggiore. O il numero minore. Se io assegno a uno slice di due elementi una lista che contiene un elemento solo, la lista si accorcia. Quindi questo meccanismo come funziona quando faccio un'assegnazione a una slice? Prima di tutto gli elementi che sono presenti in questa fetta, in questa porzione, vengono tolti. Poi vengono inseriti gli elementi nuovi. Se questi sono in ugual numero a quelli che avevo tolto, la lunghezza complessiva della lista non cambia. Se questi fossero in un numero minore di quelli che ho tolto, la stringa, la lista si accorcia. Se fosse il numero maggiore la lista si allunga. Al limite posso anche cancellare degli elementi della lista. Slice di 5 e 7 uguale a lista vuota. e quindi l'ex elemento 5 e l'ex elemento 6 spariscono nel nulla e non vengono sostituiti da noi, da niente. E quindi la lista perde due posizioni. Questo, se vogliamo, è un modo diverso di fare pop. Il pop cancella un elemento da metà, si è detto lo indice, qui in questo caso ho fatto pop in un colpo solo di due elementi. Così, come volendo, potrebbe esserci un modo contorto di fare insert, no? Però, visto che posso inserire una lista più lunga, però sarebbe complicato riuscire a mantenere l'elemento esistente, non andiamo a complicare, a trovare metodi contorti di fare cose che si possono già fare in modo semplice. Questo ha anche altre utilità, tipo a zerare una lista. Cioè, se io sul ramo sinistro dell'uguale metto una slice, una porzione che rappresenta l'intera lista del primo all'ultimo elemento e le assegno a un valore vuoto, ho resettato la lista. E quindi ho costruito una lista, in questo caso vuota, potrebbe servire per cancellare tutti gli elementi di una lista senza modificare la lista stessa. Tutte queste operazioni qua, sulle slice, scusate non l'ho fatto vedere prima, un'alias, facciamoci un'alias del nostro tutti, uguale tutti. Quindi, se ci facciamo un'alias della lista, ci dobbiamo chiedere, ma queste operazioni che stiamo facendo sulle slice creano delle liste nuove o modificano quella esistente? E in realtà modificano quella esistente. Se io faccio tutti di 3 a 5 uguale niente, vedete che ho modificato la lista direttamente tutti senza creare una nuova e quindi l'eventuale alias precedente è mantenuto. Non ho rotto, non ho separato la sinonimia. Questo ricordiamocelo perché, nonostante qua ci sia un uguale, che ti verrebbe da dire ma no, hai creato una lista nuova perché la stai assegnando. Io non sto assegnando un nuovo valore a tutti, ma sto assegnando un valore a una porzione interna di tutti, anche se questa porzione interna fosse tutta la stringa. Adesso, ve le racconto così, sembrano un po' delle curiosità, no? Dici, vabbè, stai contorcendo la mente. Però, in realtà, lo vediamo poi negli esercizi, alcune di queste cose possono tornare utili, no? Per manipolare queste liste. Diverso sarebbe fare così. Tutti uguale stringa vuota, a questo punto effettivamente crea un nuovo oggetto lista vuota e lo assegna nella variabile tutti. Variabile tutti. Ma il suo alias, a questo punto, visto che assegna un nuovo valore alla variabile tutti, il suo alias mantiene il valore vecchio. Se invece modifico la stringa stessa, mantengo, non rompo, non perdo il riferimento alla variabile precedente. Questo, se ne occuperemo, sarà il tema forse dominante della settimana prossima, quando vedremo le liste dentro le funzioni. E quindi dobbiamo fare attenzione se stiamo modificando una lista locale oppure stiamo modificando la lista che mi arriva dal programma chiamante. Prima familiarizziamoci con le due cose separatamente e poi le mettiamo insieme. Ok, qui ci sono i vari esempi, i vari casi che abbiamo fatto interattivamente. C'è anche la possibilità di, ovviamente, le porzioni con tre, le slice con tre argomenti. Finché li estraggo va bene, ma quando li devo mettere sulla sinistra dell'uguale si complica parecchio la vita, quindi evitiamo di farlo. Ok, qui ci sono poi trovati una serie di slide, tre, quattro slide, dove ho riassunto le tabelle in cui ci sono praticamente tutte le funzioni che possiamo usare sulle liste, funzioni e metodi. Ok? La creo, lunghezza, creo una copia, la moltiplico, quindi creo più copie consecutive, si usa quasi mai, concatenazione col più, la concatenazione che non modifica le due stringhe di partenza e ne restituisce una nuova. C'è lo slicing, la somma, il minimo e il massimo e il test d'uguaglianza. Questa è un'operazione di base che abbiamo visto. I metodi di base che abbiamo visto sono POP, in cui l'argomento di POP è la posizione, cioè l'indice dell'elemento da cancellare, non il suo valore. avevo dimenticato che POP si può anche chiamare con zero parametri e in questo caso lui toglie il primo elemento, è come se fosse zero sottinteso. È anche comodo, tutte le volte voglio togliere il primo ogni volta. La insert invece inserisce in una certa posizione intermedia, append aggiunge un singolo elemento, index trova un elemento, ecco remove è il cugino di POP, nel senso che cancella un elemento, e è esposto tutti gli altri in avanti e indietro di una posizione, con la differenza che POP ha bisogno di una posizione, cioè indice 3. Remove invece ha bisogno del valore dell'elemento, cioè cancella il 30, il voto che ho preso 30, cancella BOB, che è equivalente a fare prima un index per trovare dove la posizione e poi fare POP di quella posizione lì, ovviamente. E poi c'è il metodo sort che abbiamo visto, gli operatori in, not in per andare a cercare gli elementi, tipicamente da fare preventivamente rispetto all'index, qui c'è preso da altre tabelle, ci sono altri metodi che possono essere comodi, comodi, ad esempio, clear cancella tutti gli elementi, quindi svuota la lista, copy ne fa una copia, che è come scrivere list, ma sono modi diversi di fare le stesse cose, l'extend, non l'abbiamo forse visto prima, con catena, aggiunge una lista S, gli contenuti di T, e, vabbè, c'è un metodo reverse per darti gli elementi al contrario, ma noi con lo slicing lo sappiamo anche fare con il meno 1. Ok, queste sono le operazioni di base, poi con questo ovviamente da sole non ci servono nulla, non mi serve cancellare il terzo elemento di una lista, no, mi serve se sono all'interno di un algoritmo che fa qualcosa. Qui ci sono alcuni esempi, ma io magari proverei a fare un esercizio un pochino, un esempio un po' più completo, che si basa sulla nostra lista dei voti, no, abbiamo già cominciato a fare un programmino che leggesse la lista dei voti, proviamo a definire che cosa vogliamo fare, ok? Qualcosa di utile. Quindi creiamo un programma, generiamo un programma, con cui poter leggere un elenco di voti, terminando con 0 e stampare una serie di informazioni su tali voti. E questa informazione che vogliamo stampare è chiaramente la media, ma questo l'abbiamo già fatto, adesso ci aggiungiamo delle altre parti, ci aggiungiamo i voti in ordine crescente o decrescente, vabbè, mettiamo crescente uguale, la media escludendo il voto peggiore. Oppure, se vogliamo, la media anche escludendo i due voti peggiori. Cominciamo a fare questi. Allora, la media l'abbiamo già stampata, abbiamo già letto i voti e per calcolare la media abbiamo usato la funzione somma e la funzione lunghezza. la somma l'abbiamo fatta appunto con la sum, anziché fare il nostro ciclo. Quindi il primo punto ce l'abbiamo già, l'abbiamo già fatto prima. Adesso, il secondo punto richiesto dall'esercizio è i voti in ordine crescente. O, scusate, aggiungiamo ancora una cosa, la media degli ultimi quattro voti. Allora, i voti in ordine crescente è facile perché uso la funzione sort per metterli in ordine. Allora, potrei scrivere voti.sort e stampare semplicemente i voti in ordine crescente sono voti.sort. Quindi sto stampando direttamente il contenuto della lista. Allora, proviamo a inserirli. Inserisci un voto 2, 3, 4, 5 vabbè, è uscito 45, fa lo stesso. 2, 3, 45, 6 la tua media è 14, non hai nessun 30 i voti in ordine crescente sono 2, 3, 6, 45. Adesso, a parte l'estetica di averli scritti così con un apparente di quadro e magari non lo voglio fare allora dovrò fare un ciclo in cui mi li stampo da solo sono venuti fuori in quest'ordine. Quindi quando devo ordinare una lista semplicemente chiamo voti.sort e lei mi va a modificare automaticamente la lista stessa. Il problema che posso avere è che a questo punto quella lista cioè non ho più la lista originale per cui quando dovranno chiedermi gli ultimi 4 voti non so più quali sono. Giusto? Prima non sapevo quali sono gli ultimi 4 voti sono le ultime 4 posizioni nella lista ma dopo che l'ho ordinata questi voti non compaiono più in ordine di inserimento bensì in ordine numerico. Allora se non voglio perdere questa informazione l'ordinamento non lo potrò fare sulla lista dei voti vera e propria ma dovrò avere una lista diversa quindi avrò due liste una con i voti in ordine cronologico diciamo l'inserimento l'altra con i voti in ordine crescente. Come posso farlo? mi vengono in mente due modi quindi questo no mi vengono in mente sfidiamolo no perché perderei l'ordine di inserimento dei voti posso creare una nuova variabile voti ordinati usando sorted di voti oppure potrei usare voti ordinati uguale list di voti e poi voti ordinati punto sort quindi nel primo caso uso la funzione sorted che non modifica il proprio argomento ma costruisce una nuova lista e mi restituisce nel secondo caso prendo i voti ne faccio una copia esplicita e poi vado a manipolare questa copia e la rimescolo ovviamente qua devo stampare non voti bensì voti ordinati queste due varianti sono entrambe valide attenzione che non dobbiamo fare così se scrivessimo così voti ordinati uguale voti e poi voti ordinati punto sort in realtà voti ordinati scritto così è semplicemente un alias non è una copia vera della lista ordinaria e quindi stiamo quando stiamo ordinando la lista voti ordinati in realtà stiamo ordinando anche la lista voti perché sono la stessa unica lista ok? quindi quindi avrò gli stessi numeri in due liste diverse con un ordine di apparizione diverso quindi questo oppure uno dei due va bene lo stesso quindi proviamo a mettere qua i numeri più o meno a caso e me le stampate giustamente in ordine crescente dimmi allora mette dentro la print voti punto sort lui dice proviamo quindi commentiamo questo qua per un attimo ok? e vediamo cosa succede eh i voti in ordine crescente sono none allora qua abbiamo fatto due danni contemporaneamente uno abbiamo poiché abbiamo chiamato il metodo sort sulla lista voti abbiamo rimescolato voti e abbiamo perso l'ordine di inserimento che era quello che non volevamo fare e due comunque non riusciamo a vedere i voti in ordine perché il metodo sort non restituisce nulla non restituisce nulla perché lui il suo lavoro lo fa già modificando la lista stessa avrei però potuto scrivere quindi questo è sbagliato perché non mi stampa il valore perché? perché la funzione sort andiamola a vedere la prima riga ordina la lista in ordine crescente e restituisce none c'è un po' più scritto bene the sort is in place l'ordinamento viene eseguito sul posto cioè viene modificata la lista stessa ok? quindi il contrario di quello che ci serve noi vogliamo che non venga modificata la lista ma che la funzione restituisca un valore in modo che lo possiamo stampare che è esattamente ciò che fa sorted che se andiamo a vedere cosa dice sorted restituisce una nuova lista che contiene tutti gli elementi dell'iterable quindi dell'argomento che riceve in ordine crescente la seconda fase la leggiamo tra quattro settimane però restituisce qualcosa e non modifica nulla quindi questo lo potrei fare sicuramente e quindi per 5 millesima volta devo inserire dei dati a caso e questa volta me li stampa quale può essere lo svantaggio di questo è che se mi servono solo qui va bene ma se i numeri ordinati mi servissero anche da altre parti del programma qui li ho presi calcolati stampati e dimenticati mentre invece se lo memorizzo in una variabile voti ordinati quella variabile la posso usare anche più avanti se mi serve perché se mi servisse di nuovo tu mi dici fai di nuovo sorted sì però è lavoro fai lo stesso lavoro più volte noi questi programmi sono velocissimi ma in realtà se gli fai fare tante cose inutili a un certo punto si rallentano quindi è sbagliato fare più volte la stessa operazione inutilmente ok quindi questa è comunque un'opzione possibile non ovviamente quella con punto sort adesso rimetto la mia versione per andare avanti ok ne approfitto per una parentesi tornando sulle funzioni si può dire che palle inserire tutte le volte questi dati e però il programma è fatto così prima devo inserire i dati e poi li provo quando sto sviluppando debuggando cioè ogni volta no è una perdita di tempo allora potremmo magari ristrutturare un attimo il programmino con varie funzioni ok e chiamare poi la funzione per inserire i dati e magari poi modificare quella funzione per inserire i dati in modo che in fase di sviluppo restituisca già una lista con dei dati già dentro e non li richieda ogni volta l'utente cioè quando i programmi si complicano un pochino visto che ormai conosciamo le funzioni possiamo strutturare il programma sotto forma di gruppi di funzioni che poi si richiamano a vicenda ad esempio potremmo avere una funzione che semplicemente legge i voti cioè questa parte qua di programma la mettiamo in una funzione def leggi i voti e questa è facile perché basta che io li metta qua dentro e poi posso avere un'altra funzione calcola media che fa questo un'altra funzione calcola i 30 poi mettiamo a posto gli errori che stanno saltando fuori un'altra funzione voti ordinati e così via quindi magari quando sviluppo il programma chiamo solo le funzioni che mi servono che sto sviluppando adesso e non chiamo le funzioni che non mi servono quindi il mio programma principale che sarà sotto anziché potrà dire normalmente dovrà stampare la leggi voti quindi acquisisci dall'utente leggi dall'utente ma poi quando sto magari quando sto facendo le prove io scriverò direttamente voti uguale un certo valore e commento quell'altro non chiamo più quella funzione se non avessi le funzioni dovrei commentare tutto quel blocco di codice che fa la lettura dei dati e poi dopo quando voglio provare il programma davvero devo togliere il commento a quel blocco di codice dopo tre volte faccio casino di sicuro commento scommento le righe sbagliate mentre così nel mio programma principale dico ok chiamo quella funzione sì oppure no e assegno semplicemente un valore a questa variabile quindi è comodo anche per programmi non particolarmente lunghi strutturare comunque il lavoro in piccole funzioni e poi il programma principale non farà altro che chiamare le singole funzioni però c'è un problema come si parlano tra di loro queste funzioni nel senso che se la lettura dei voti la faccio qua immaginiamo il programma vero e proprio leggi voti e poi stampa media no com'è quella scusate la media l'ho chiamata calcola media quali sono gli argomenti e i valori di ritorno di queste funzioni il calcola media per calcolare una media dovrà sapere su quali dati lavorare e i dati su cui devo lavorare la calcola media sono i voti che ho appena letto e calcola media calcola media mi restituisce restituirà indietro un valore quindi la legge voti potrebbe calcolare i voti la lista con i voti viene costruita dalla funzione legge voti e me la memorizzo in una variabile principale voti la quale può essere l'argomento della funzione calcola media e il valore di ritorno della funzione calcola media è appunto la media che poi stamperò quindi quando separo il programma in più parti dovrò fare attenzione a come fare fare in modo che queste varie parti si condividano l'informazione che gli serve e allora la funzione leggi voti dopo aver letto come fa a restituire questi voti? semplicemente lei ha creato un vettore voti qua e al fondo fa il return i voti voti che cos'è? è un numero una stringa? no è una lista vabbè restituisce una lista anziché restituire un numero non cambia nulla e quindi anche il calcolo la media riceverà come parametro i voti e calcolerà la media e ritornerà questo valore del calcolo della media è lo stesso codice di prima né più né meno semplicemente abbiamo dato ad ogni funzione un suo scopo la funzione leggi voti adesso a questo punto posso mettere un commento per spiegarla acquisisci la tastiera una serie di voti e la funzione terminata a zero terminata a zero e poi cosa fa? restituisce la lista dei voti viceversa la funzione calcola media calcola la media di una lista di voti il parametro che riceve voti è ovviamente la lista contenente i voti e il valore di ritorno è il valore della media calcolata calcolata poi perché una funzione di una riga sola è quasi inutile però come meccanismo generale quindi questa funzione calcola media riceve come argomento una lista e lavora su questa lista finché le funzioni non modificano le liste non ce ne preoccupiamo poi invece la settimana prossima ce ne preoccuperemo di cosa succede riceve questi valori fa il suo lavoro e restituisce un numero reale e la stessa la funzione calcola 30 restituirà voti eccetera questo cosa fa una stampa anche questa funzione voti ordinati dovrà ricevere come parametro una copia di voti e allora è sempre più opportuno che questi voti non vengano modificati quindi noi avremo il nostro programma che non farà altro che stampare a questo punto la media poi abbiamo detto che calcola i 30 e poi stampa i voti ordinati il programma principale è tutto in queste cinque righe per adesso e se lo eseguo dovrebbe funzionare esattamente come prima inserisci un voto 3, 4, 8, 7, 0 stampa la media non ho nessun 30 i voti in ordine crescente sono questi ho fatto tutto questo lavoro perché? perché io non voglio più ogni volta inserire questi voti a mano e quindi per il momento metto un bel commento qua e scriverò che voti uguale una serie di voti sensata magari le metto un po' in ordine crescente poi ci metto un 30 poi ci metto dei voti duplicati per vedere come funziona l'algoritmo poi ci rimetto un 18 poi ci metto un 30 dei voti che magari possono mettere in crisi l'algoritmo perché ho dei duplicati cosa capita quando metto in ordine con i duplicati quando dovrò calcolare il voto più piccolo il voto più grande e così posso eseguire l'algoritmo il programma semplicemente facendo run con questi dati di prova è molto più comodo che non dover andare quando poi sono a posto posso tranquillamente scommentare questa commentare questa e il programma torna a essere quello di prima proprio anche come metodo per lavorare ci sarebbe ancora un passo in più da fare andiamo a vedere qui c'è un una sottolineato segnala un problema in questa funzione qua è un messaggio un po' strano si dice shadows name voti from outer scope cioè vuol dire che quando io uso lì quella variabile che si chiama voti come parametro della funzione questo nome voti sta oscurando sta mettendo in ombra il nome voti dell'ambito più ampio eh vuol dire che il nome voti l'abbiamo già usato qua l'altra volta quando abbiamo visto le funzioni abbiamo visto che ogni funzione ha un suo ambito di nomi locali e poi ci sono i nomi del programma principale in questo caso abbiamo un programma principale che ha una variabile e la funzione usa lo stesso nome di quella variabile non è vietato però può essere confuso perché se io per caso anziché voti qua mi scappasse la tastiera ci mettessero i di troppo succederebbe che qua avrei un parametro che non uso mai ma qua avrei una funzione che usa una variabile non sua perché quel voti lì non è scritto in rosso non è un errore perché quel nome è un nome che esiste nel programma principale allora io rischio di usare dentro una funzione una variabile che non è mia perché casualmente il programma principale aveva una variabile con quel nome che è un problema allora per proteggerci contro questo problema appunto semplicemente un errore di battitura può trasformarsi in un errore proprio di esecuzione anche difficile poi da trovare facciamo in modo che anche il programma principale sia dentro una funzione anche il programma principale lo mettiamo dentro una funzione così le sue variabili non potranno di sicuro andare a inquinare gli altri non potranno essere visibili da nessuno quindi questo programma principale lo mettiamo in una funzione che convenzionalmente chiamiamo main e semplicemente isolando il programma principale dentro una funzione vedete che sono spariti sono sparite quelle annotazioni che avevamo qui non c'è più non mi segnala più nulla perché a questo punto non esiste più nessuna variabile globale che si chiama vuoto questo è bellissimo tranne il fatto che questo programma alla fine non fa più niente se faccio run il programma non fa più nulla perché? perché è solo fatto di funzioni qualcuno le deve chiamare queste funzioni perché sono rimasto senza programma principale alla fine perché l'ho messo dentro una funzione si chiamerà main ma lo sappiamo solo noi che il main sta per il programma principale allora dobbiamo poi ricordarci alla fine per far contenti tutti di chiamarla questa funzione ok? quindi esegui il programma quindi io trovo molto comodo organizzare il codice in questo modo dove hai una funzione main che contiene le istruzioni principali un'istruzione sola che è quella in cui il programma viene davvero eseguito e buona parte del codice in n funzioni separate che poi si passano i valori semplicemente attraverso i parametri con questo metodo di lavoro effettivamente riuscite a concentrarvi su un passaggio per volta quindi qua ovviamente parte usando quei valori finti che abbiamo inserito quindi per momento non richiama l'inserimento dei dati dall'utente ed è anche più esplicito se una funzione in questo caso crea questa lista voti ordinati questa lista essendo dentro una funzione rimane dentro una funzione non è visibile al resto del programma può essere un bene può essere un male è una scelta che dobbiamo fare ok andiamo avanti con questa struttura nel programma la media calcola la media escludendo il voto peggiore allora proviamo a pensare una funzione a questo punto ragioniamo funzioni che calcola la media tranne voto peggiore che ovviamente riceve la lista dei voti come fareste? allora il voto peggiore chiaramente è il minimo di voti poi io ho due modi che mi vengono in mente uno è quello di dire togliamo il minimo cioè ho la mia lista dei voti ho trovato che il minimo è 18 cancelliamolo da quella lista e poi mi faccio la media come facevo prima anzi uso esattamente la funzione di prima return media voti calcola media di voti perché devo rifarmi i calcoli che sono già fatti in un'altra funzione il problema di questo è che vado a modificare la variabile voti perché remove cancella dalla variabile voti ah scusate non era min era peggiore min è il nome della funzione quindi questo lo posso fare ma non lo devo fare sulla variabile voti devo fare una copia voti2 uguale list di voti e questo lo faccio su voti2 e passo a voti2 voti2 sarà il voti senza il minimo non chiamiamolo voti2 se lo fate voi io mi arrabbio senza minimo ok? qui non devo modificare la lista me ne faccio una copia e poi sulla copia mia a questo punto una variabile mia di questa funzione posso fare ciò che voglio vediamo se funziona uguale medio tranne voto peggiore dei voti e calcoliamo questa stampiamo vediamo vediamo cosa salta fuori dovrebbe stamparmi che la media 25,4 ma se tolgo il voto peggiore sale a 26,6 questo è un modo possibile a me viene in mente anche un altro modo che è quello di fare i conti se tu sai quali sono i voti sai qual è il peggiore la media la puoi calcolare facendo la somma dei voti meno il peggiore fratto numero di voti meno uno e in questo modo non devi quindi il peggiore devi comunque farlo però senza fare senza sto creando una lista per togliere un elemento ok? va bene l'alternativa è quella di dire ragioniamo un po' di aritmetica e diciamo che semplicemente devo ritornare la somma fratto di tutti i voti tra il peggiore quindi sum di voti meno peggiore fatemi mettere commento qua se no non mi riconosci le variabili come numeratore e il denominatore sarà il numero di voti meno uno perché ho tolto il peggiore e qui veniva 26,6 vediamo se fatto in questo modo avviene anche lui 26,6 questo sicuramente potrebbe venire in mente un metodo o l'altro sono due metodi molto diversi questo è più veloce perché non devo creare una lista apposta cancellare un elemento per fare la media su quella lista però per i nostri scopi sono abbastanza trascurabili queste differenze di velocità e poi mi chiede la media escludendo i due voti peggiori questo diventa un pochino più complicato come faccio a sapere quali sono i due voti peggiori puoi mettere il min non mi basta perché tu puoi fare il minimo potete fare due cose o come dice lui lo metto in ordine e i primi due saranno i due più bassi oppure calcolo il minimo tolgo il minimo ricalcolo il minimo ricalcolo il secondo minimo è un altro modo da quello che hai in mente tu proviamo a scriverli entrambi media tranne due peggiori di voti quindi il primo modo è quello di dire li metto in ordine e faccio la media di tutti tranne i primi due se il mio ordine è dal più piccolo al più grande i primi due saranno i due più piccoli quindi potrei avere che i voti ordinati uguale sorted di voti usiamo sorted così siamo sicuri di non modificare la variabile voti e poi posso ritornare il calcolo della media di voti ordinati due due punti cioè di voti ordinati ne strago una fetta che parte dal terzo elemento in avanti e questa sarà una lista di voti sempre una lista un pochino più corta che la funzione calcola media saprà su cui la funzione calcola media saprà calcolare e questo è un modo no? sì potevo avere avrei potuto anche scrivere separare in due magari con la prima volta potremmo separarlo in due equivalente a questo non c'è che ho scritto prima solo che ho fatto forse due passaggi un po' quindi prendo i voti li metto in ordine da questi qui cancello i primi due e poi calcolo la media l'altro modo invece era quello di calcolare il minimo no? che dicevamo quindi l'altra alternativa era quella di calcolare il peggiore uguale minimo di voti e poi allora devo sempre farmi una copia quindi voti due stavolta lo chiamo voti due list di voti peggiore il minimo di questi voti due e lo rimuovo poi ritroverò di nuovo il peggiore tra quelli che sono rimasti e a sua volta lo rimuovo questo è il nuovo peggiore e quindi alla fine potrò calcolare la media di voti due qui dobbiamo pensarci bene a cosa succede nel caso in cui i due voti peggiori siano entrambi uguali oppure siano diversi tra di loro se funziona in tutti i casi secondo me si funziona in tutti i casi però dobbiamo sempre pensare alle anomalie l'altra cosa a cui non stiamo pensando non stiamo facendo nessun controllo dell'errore è che la media ha senso se ho almeno un voto la media tranne il voto minore ha senso se ho almeno due voti e questa media ha senso se ho almeno tre voti quindi dovrei fare un controllo a monte di non chiamare queste funzioni se non ho un numero sufficiente di voti nel mio esempio le ho messi abbastanza ma poi quando inserirà l'utente cosa succede? quindi dovrei aggiungere tutti questi controlli l'ultimo punto che ci viene richiesto la media degli ultimi quattro voti che in realtà è banale io l'ho aggiunto solo per ricordarci attenzione che non puoi distruggere la variabile voti non puoi modificarla perché poi ti servirà e quindi tutte le volte ci facciamo una copia e manipoliamo la copia la media degli ultimi quattro voti media ultimi quattro voti semplicemente dovrà calcolare la media della fetta dei voti che corrisponde agli ultimi quattro elementi ricordate come si scrive gli ultimi quattro elementi meno quattro due punti come slice meno uno è l'ultimo meno due meno tre meno quattro è il quarto ultimo due punti vuol dire fino alla fine secondo l'argomento non c'è e quindi in qualche modo sto creando qui non ho problemi non sto modificando voti perché facendo una slice ho creato una lista nuova che passerò alla funzione calcola media quindi in qualche modo stiamo cercando di po' allenarci con queste liste usando le funzioni native delle liste in altri linguaggi di programmazione spesso tutte le volte devi usare una lista devi fare un ciclo calcola media fai un ciclo aggiungi un elemento fai un ciclo eccetera eccetera invece in python usando i metodi che ci sono usando gli slicing molto spesso si riesce a lavorare ad alto livello mi chiedo cosa deve succedere alla lista non cosa devo fare su ogni singolo elemento però questo avremo modo sia domani che la settimana prossima ancora di approfondire per oggi grazie grazie